buonasera ragazzi mi sono incastrato con l'inibitore vabbè si era incastrato twisted fate nell'inibitore io ti vedo andare avanti adesso si prima mi ero incastrato anche prima anche prima morisce non ho preso nessuno si ho preso Ezreal non levo un cazzo fanculo hanno un team abbastanza rompicazzo ehm vabbè io stillo i minion aia sto rompendo un po le palle io vero no tu non stai facendo un cazzo ridi e basta no con i rumori nel senso con i rumori in italiano si sente che dice hey 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 io ce l'ho in inglese infatti tu non senti così fa si si sente hey 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 lo stesso ah ok stai facendo solo per quelli in italiano che palle ho pochissima vita e non mi stillai minion non l'ho neanche preso io lo sai come non l'hai preso l'ha preso l'attore sì l'attore poi l'ho preso io io ci sto morendo male non faccio danni non ho niente e la mia ulti è inutile oh merda haha mi ha allisciato con lo charm ahia mi vogliono ammazzare eh non ci credo ok carta blu mana vai ma come li ho presi tutti ma li ho missati tutti come è possibile dove va vain perchè vain prende la cura che è full vita ma io non levo niente meno male con l'item da support mi potenzio la q o la e con garen eh stai scherzando o è una domanda seria tutti e due preferisci silenziare all'infinito o o niente perchè niente pare danni con la e no niente perchè dipende da cosa di buidi faccio full banane no no scherzo faccio tank fatti full banane full banana mi ha ucciso nunu e vabbè ma c'è nessuno nessuno fa niente in questo team guarda guarda il tuo cadavere guarda il tuo cadavere ci cammini sopra? no 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 dovevi vederlo dovevi vedere no non potevo guardare perchè sto shoppando dovevi vedere cosa stavo facendo ti stavi stuprando il mio cadavere fai schifo ok ragazzi mettete tutti un bel hashtag con scritto cont necrofilo per chi non lo sapesse necrofilo è chi si stupra i cadaveri e non solo i cadaveri vabbè principalmente i cadaveri dai fammi da tank manco per cazzo sei inutile cont non ho ancora resistenza e non me ne frega un cazzo dovevi tankarte lì mentre io facevo finta di fare danno ti attacchi mi sono fatto attack speed apposta perchè ragazzi i danni i danni li sto facendo io ragazzi però le uccisioni no no scappato e vabbè io faccio danni non prendo neanche assist vaffanculo final ora si che mi diverto mica tanto se ne vedo uno con poca vita lo ammazzo io le faccio danni e tu grazie tyke ti voglio bene no oh cazzo dove vanno tutti guarda aiuto 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 no ma si cosa no vai tyke guarda come ci muove tyke perchè l'attore è troppo lontano perchè non gli ha dato il colpo finale se l'ha stannato c'è vabbè io vedo cose strane su su queste partite di aria aumentiamo i gold aumentiamo i gold ho la ulti ancora mi sono dimenticato di comprarmi la moneta ho la ulti ma la mia ulti è inutile in questa mappa ma sei scemo beh insomma puoi fare un backdoor backdoor? in questa mappa? ma sei scemo si no se manca solo l'inibitore pure pure mio no haha no haha sei morto tanto così compro la moneta così compro la moneta ancora non l'avevi presa? no io inizio a fare danni tanti danni anche loro fanno tanti danni però cazzo cura mi mancano due attacchi base? perchè vedo il coso verde? ma i miei poro sono sempre intossicati da qualcosa hanno un'intossicazione alimentare li vedo sempre verde verdi verdi sempre sempre verdi aha iiii la mia vita my life e vaffanculo io sono inutile mi sento inutile non è vero tu sei quello che potrebbe fare più danni di tutti ma non si sta ma non sta facendo un cazzo in teoria tu dovresti fare la maggior parte dei danni lo sai? eh percato che appena mi vicino mi stanno mi ammazzano e mi stuprano e usare la E? l'ha fatto sei visto? no non stavo guardando e Tariq non stunna? eh Tariq prova a farsi le kill stando fermo è più divertente no? no lui due va lui due va nooo no ma dai prendi la cura? prendi la cura? prendila tu ah vero c'è la passiva io non serve c'è la passiva perchè non ti fai la mia build su Garand? la sto paziente infatti con calma però lol faccio questo poi mi faccio velo della bench se non sbaglio si chiama così io posso solo spammare la Q perchè tanto non mi posso avvicinare oh cazzo ma stiamo scherzando? scherziamo stiamo bella cura curami uff Tariq che cazzo fai? la pippa? io devo morire posso regalare una kill? vieni qua Tariq me li sto facendo tutti io Emilio no liscio attenti se hai gaming già di ulti ci shottano dove vai? vabbè dovevo morire ehm sto andata prendi la cura almeno mi serve sono indeciso vado ibrido vado a D vado a P potrei anche andare ibrido volendo però questo fa danno a P vabbè andiamo a P attack speed cazzo cazzo aiuto aiuto ma come ha fatto che mi è passato a fianco? non mi ha preso mi è passato a fianco dopo te lo faccio rivedere sul video domani io ho visto che ti è passato proprio vicino e ti ha toccato no mi è passato a fianco non mi ha preso almeno che non mi ha preso la manica del giacchetto di twisted fate ma non credo valga cioè è come se uno mi punta il coltello e mi taglia un pezzo del manico vuol dire che mi ha tagliato un braccio che discorsi sono? lo sapevo io cosa che mi lanciava al charm? si mi fate prendere la cura nooo sei morto dovevo bulldare però non moriteci io ci provo a non morirci però sono morto praticamente un ottimo vai che ci muore nooo guarda con quanto fa il culo mi servono pozze a D? dove cazzo lo vede a D? mi dici dove vedi a D? perché hai visto l'uragano e pensa che ti fai a D ma vaffanculo ma vaffanculo solo per l'uragano? si peccato che il resto è tutto a P vinci per la scelta cioè mi dici un twisted fate senza uragano che utilità ma vaffanculo soprattutto in Aram ma vaffanculo gente che non capisce come quando ti hanno come quando ti hanno detto che si Vain contaci pallina di neve e vaffanculo cioè ho usato la pallina di neve e mi ha ultato qualcuno mi ha scritto su quarts chi sarà? chi mi ha scritto su quarts? oh ah minimana aggiunge la chiamata e ability power salve 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 sono aumentato di un'altra iscritta hai visto? io? no quello dietro di te il letto ok no sorrata nel dubbio sorrata no non ho visto non ho stalkerato in questo non era un canale un canale non si mai creerò una oh allora mi hai stillato una kill e adesso come la metti? mi stavo facendo una doppia mi stavo facendo una doppia perché io lo sai perché l'ho fatto attack speed twisted fate? perché ho maxato la e ovvero faccio male ogni terzo attacco ma avendo l'uragano è ogni due attacchi tipo ogni attacco e mezzo per la precisione vabbè io vi aspetto vabbè io vi aspetto la sua stillatore? no 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 quanta vita avevo nooo mi ha shottato non l'ho stillato lo so lo so ho detto ho detto no mi ha shottato non ho detto no mi ha stillato la kill e comunque io lo voglio fare ibrido qual è il problema di vain? c'è tu non stai facendo un cazzo stai fermo guardi e loro si fanno le kill io fammi capire la tua utilità in tutto questo cazzo questo è figo ma cos'è? cos'è? chi è che sta? chi è che sta facendo? chi è che fa audio di altri canali? eh sto registrando sai com'è? per te mazza nooo c'è io l'ho aiutato e l'emma che gli è stato e mi ha fatto morire guarda cosa faccio no non guardo perchè mi rodo il culo fanculizzati c'è parca puttana oh c'è vain è 9 qua 9 6 dovrebbe farsi una pentakill da sola però non si è fatta la madre rovina perchè è un genio questa vain vabbè facciamo stare se tu me li tanki io me li shotto tutti ok se non focussano meno cosa molto probabile scrivetemi quando avete finito che è minuto se è finita prima che mi resmonto eh sto morendo per colpa ti mi sto mancando sai eh lo so ma stanno sotto torre guarda guarda come mi focussano scappa 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 vai vega ok mi servono i minion per cuore armi guarda come sarà la mia vita no non ho preso l'assist quasi nessuno penso sia la presa qualcuno lasciano a me lasciano a me infatti stavo cercando di tenere lontani i nemici aspetta vediamo dove stanno si sto registrandoci che palle dove stavo a passare io ti devi mettere davanti alla webcam fammi capire recupera vita ti do una mano no non mi serve ho già usato gli al quindi io adesso potrei usare la ulti per fare qualcosa di utile vediamo il mercato che figo eh wow ma venn che ci falligio oddio ho visto un po' di vite eh vabbè focussate hai la tua stilla te l'ha stillato male te l'ha stillato male te l'ha stillato male te l'ha stillato male e no potere magico non mi fanno niente te l'ha stillato solo hai guy mi sa che ti potrebbe fare danno vero si ho così tanta vita che non mi toglie quasi niente io sono oh mio dio devo morire devo assolutamente morire ho 5.000 e passa dicono non mi fanno niente non mi fanno niente balla guy oh giusto e adesso ci muore guy no ti ha curato Tych ti ha curato Tych e ti ha salvato finalmente sono morto non ce la facevo più sono morto finalmente ma è scema sta vape perchè daiva mi faccio la corazza dell'uomo morto anzi no qualcosa di meglio vediamo se c'è il pegno no 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 fa un culo charm me la stavo shottando mi ha fottuto di charm mi sono fatto il pegno mi sto facendo anzi non è che mi son fatto il pegno di Sterak ok perchè? perchè il pegno di Sterak? è la più vita ma fatti la mannaia oscura ma che vita e danni assoluti fa un casino io sempre in fondo io sempre in fondo comunque quella skin di Zix è una fregatura lo sai perchè? perchè i cerchietti sono verdi quindi quindi tu magari vi scambi per il team alleato ti incula fra un po' mi si recupererà porto la vita eh io la recupero io la recupero cioè io skillo e la recupero uccidete Nuno ok tanca? ma sei matto a fai tancare a noi no 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 non l'ho presa cazzo stavolta l'ho presa guarda guarda come recupero vita guarda come recupero vita morto Tyke dove sei? non ti vedo oddio ma che cazzo fai resta lì eh non ti muove stronzo si aiuto eh vabbè guarda come recupero vita hai spawnato gli libitori hai ultato per caso? noo si morta vain dove va quell'hai? ma c'è Ari lì c'è Ari qui nascosta vabbè non la caga nessuno guarda rolled rollo lol robos ah io, i�ый stava ammazzando tu non hai visto l'ultima non hai visto l'ultima ki, ilco fatto no non ho visto niente io sto mi sono direto